Ancora religiosi rapiti in Nigeria sono un novizio fratel Godwin Eze e due postulanti Anthony Eze e Peter Olarevaju prelevati da un gruppo armato che ha preso d'assalto il monastero benedettino di Eruku nello stato di Kvara nella parte centro-settentrionale del paese. Secondo quanto riferisce l'agenzia Fides il sequestro risale a luna di notte del 17 ottobre. Si sospetta che ad agire sia stato un gruppo composto da pastori fulani in prevalenza di fede islamica dediti al banditismo e alla predazione delle terre e da qualche tempo anche i sequestri a scopo di estorsione. La notizia del rapimento dei tre benedettini arriva all'indomani di quella della liberazione delle tre suore rapite nello stato sudorientale di Ebony. Quella del sequestro di persone diventate in Nigeria una vera e propria industria che non risparmia sacerdoti, religiosi e religiose ma che colpisce ogni categoria sociale.